E dopo appena tre giorni si gioca ancora in Serie A. Dopo la bella e convincente vittoria in casa sulla Lazio, il Bari è chiamato ad una trasferta molto insidiosa a Parma, la sua parigrado, in quanto matricola, rivelazione e numero di punti in classifica. Tra i padroni di casa non saranno della gara a Biabianì, Mariga e Manzoni, ma è il Bari a trovarsi in condizioni peggiori quanto ad elementi disponibili. Tra giocatori in difficoltà e logico turnover di fronte ad impegni di campionato ripetuti e ravvicinati, l'allenatore biancorosso Giampiero Ventura deciderà soltanto all'ultimo momento il reale assetto della sua squadra. I problemi più pressanti riguardano il centrocampo, con il centrale Almiron quasi certamente out e il laterale Alvarez. Al posto di Almiron giocherà certamente Gazzi, anche se le sue condizioni non sono al 100%, e non dovendo farcela Alvarez sarà impiegato Antonelli. Ma tra gli acciaccati risultano in elenco anche i due Masiello, Bonucci e Donati. Messa così sembrerebbe una vera e propria emergenza, ma anche prima dell'ultima trasferta, quella di Verona con il Chievo, si profilò la stessa situazione, ma poi tutti sappiamo com'è andata. Ci sarebbe da augurarselo.